Lo Stato è laico per definizione, lo dico da cattolico praticante, ma ognuno deve essere libero di scegliere con chi costruire il proprio futuro. Già la senatrice Bencini dell'Italia dei Valori ha firmato il disegno di legge Cirinà e l'Italia dei Valori sosterrà il disegno di legge con convinzione in Parlamento.